Quella di cercare di farla conoscere di più e farla diventare una delle attrattive della città, un luogo dove andare, un'alternativa al prendere la macchina e andare sui laghi, cosa che il milanese medio fa la sabato e la domenica, perché no? La città offre molti spunti, uno di questi può essere farsi un bel giro nella zona della Valle dei Monci. Abbiamo iniziato un percorso che è partito, io ho voluto anche dedicargli uno dei miei consiglieri apposta, perché ci credo, è una cosa che sono sicuro alla lunga, ma neanche tanto, nel medio periodo porterà dei risultati. Ed è un po' in linea con la storia del nocetto, che è partito da un'idea, da una suggestione, da un sogno e oggi è quello che vediamo e non ha finito il suo percorso. Questi sono i primi trent'anni, ce ne saranno sicuramente altrettanti e oltre dove verranno fatti altri step. Credo che questa sia la strada giusta, guardare in prospettiva. Non è sempre facile, bisogna ogni tanto gettare il cuore oltre ostacolo, però credo che su certe tematiche sia anche facile trovarsi, non si fa tanta fatica nell'incrociare...